...onda le battute raccolte da poco di Di Battista. È in seria difficoltà, sta facendo davvero la figura del pollo il Presidente del Consiglio e anziché rispondere facendo pulizia nel suo partito, ma evidentemente non può, di lobbisti, di interessi, di bande che si fanno la guerra tra loro, attacca il Movimento 5 Stelle, attacca i media che stanno pubblicando un'intercettazione e dice non vanno più pubblicate le intercettazioni. Prossimamente verrà votata una riforma costituzionale, ma prima di questa riforma costituzionale noi chiediamo che venga appunto discussa la mozione di sfiducia al governo Renzi, perché questo governo è delegittimato, ripeto. Ma non è neanche Renzi che comanda in questo Paese, comandano lobbisti che evidentemente hanno fatto favori al Partito Democratico e ai quali il Partito Democratico restituisce il favore tramite leggi e marchette varie.